Abbiamo avuto attenzione da parte di tutte le istituzioni e questo non ci fa piacere chiaramente, però vorremmo che a questo seguisse qualcosa in termini concreti. Noi abbiamo il 16 maggio la marcia, speriamo per allora di poter dire in quell'occasione che qualche risultato in termini pratici è stato raggiunto. E quando dico risultato in termini pratici intendo innanzitutto la videosorveglianza che è quello che ci preme di più, ma anche il presidio, il presidio delle forze dell'ordine. Ieri ho avuto udienza dal sindaco Luigi De Magistris che mi ha dato sufficienti garanzie in questo senso. In questi giorni abbiamo visto la presenza di presidi, polizia municipale, polizia dello Stato. Ripeto, il sindaco De Magistris mi ha garantito che sicuramente fino a fine anno la via Sorrento verrà presidiata. Io ci conto, ecco. Io ci conto, ecco.